Come sempre la Fiera di San Giuseppe è anche sinonimo di solidarietà. Ci troviamo in Piazza Verdi dove potrete trovare vari stand il cui scopo è proprio quello di aiutare gli altri. Ne abbiamo intervistati alcuni. Presente qui in Piazza Verdi anche lo stand di Unitalsi. Qual è il vostro scopo, la vostra missione anche nel contesto della Fiera di San Giuseppe? Allora il contesto intanto è la conoscenza, farci conoscere un pochino meglio. Noi portiamo i malati e le persone disabili e chi ha bisogno, li portiamo nei pellegrinaggi vari. Il principale è l'Urd perché l'Urd è come fosse casa nostra. Poi ci sono i pellegrinaggi in Terra Santa, pellegrinaggi a Loreto e quindi altri santuari dove accompagniamo le persone. L'aiuto è perché ovviamente il viaggio ha un suo costo. Ci sono persone che magari non sono in grado di portare per esempio tutta la famigliola e quindi noi aiutiamo. Il nostro contributo in denaro avviene dalle donazioni e da queste vendite. Noi vendiamo l'olivo e l'olio che ci viene regalato da Imperia. Siamo davanti allo stand I Sogni di Benedetta. Quali sono anche i progetti, le iniziative in corso e soprattutto come fare per poter contribuire? I progetti in corso riguardano tutta l'educativa dei bambini. Stiamo lavorando per organizzare dei campus estivi che accolgano bambini dai 6 ai 13 anni. Ma stiamo anche cercando di mettere in atto delle azioni anche per ragazzi più grandi. Vorremmo addirittura arrivare a raccogliere ragazzi delle superiori e anche ragazzi dell'università e fargli conoscere l'associazione, il volontariato tutti i giorni. Come? Come ci potete aiutare? Ci potete aiutare ovviamente facendo delle donazioni ma anche venendo al banco in questi giorni. Noi abbiamo fatto una serie di gadget. Sempre qui allo stand è presente questo libro Passi nell'infinito proprio di Nora Basucci. Acquistando questo libro c'è modo proprio di contribuire per un progetto importante. Quale? Allora, Sogni di Benedetta con il viaggio di Bianca collaborano insieme per offrire un progetto di musica nella scuola proprio dove avrebbe fatto le elementari Bianca. Quindi i suoi compagni viaggiano con lei in questo momento a suon di musica. La collaborazione è nata dopo che ci siamo conosciute e come dire da mamma continuiamo a fare la mamma in questo modo delle nostre figlie. Tutta la ricavata della vendita di questo progetto regala progetti di musica alla scuola di Pugliela e a una sezione della scuola dell'infanzia del 2 giugno. Prosegue anche all'interno della fiera di San Giuseppe la solidarietà e il sostegno per il popolo ucraino. Siamo qui per aiutare, c'è le belle cose che sono fatte a mano, anche io sono un'artista che vive alla Spezia e anche io ce l'ho le quadri, non ho portato i miei quadri qua. Tutti i soldi raccolti serviranno per l'Ucraina, per aiutare la gente che ha veramente bisogno di aiuto di queste giornate difficili e mi accorre sempre con l'Ucraina. Grazie. Grazie.